Prove di dialogo in Nicaragua. L'alleanza civica che si oppone al presidente Danilo Ortega allenta i blocchi stradali mentre la commissione per la mediazione condanna gli attacchi contro gli studenti dell'Università di Ingegneria di Managua e chiede di cessare le violenze. Gli esponenti del governo dell'alleanza per la giustizia e la democrazia si rendono disponibili a riprendere i negoziati mentre Amnesty International accusa Ortega sostenendo di aver documentato un attacco armato di turbe sandiniste contro gli studenti. Le proteste antigovernative vanno avanti da oltre 40 giorni in Nicaragua. Secondo la commissione interamericana dei diritti umani sono morte 76 persone.